va bene parliamo di teatro? parliamo di teatro è giovedì e quindi diamo il benvenuto a Tamara Malleo buongiorno Tamara prego Tamara so che c'è so che ci sente poco ma per colpa nostra quindi faccio un segno Tamara Tamara è tutta tua la linea vai non ti sento noi sì vai pure va bene vado allora buongiorno agli ascoltatori e ascoltatrici di Cristal Radio e di Good Morning Milano ciao a Fabio ciao a Lorenzo allora partiamo subito con i tre consigli della settimana perché le feste si avvicinano ma andare a teatro è sempre una buona abitudine allora partiamo subito con il teatro Fontana che in questi giorni ospita Giuseppe Scoditti Giuseppe Scoditti è un attore che molti conoscono perché fa parte del gruppo che in questi contenuti zero che è stato uno dei protagonisti del Bar Stella sul Rai 2 con Stefano De Martino e contenuti zero una compagnia che da tanti anni lavora in teatro e che adesso ha una platea più ampia che quella della televisione Giuseppe Scoditti è stato anche protagonista dell'ultimo film di Moretti come diciamo così giovane regista che si contrappone appunto a Moretti e adesso è in scena a teatro con Paolo Sorrentino Vieni devo dirti una cosa si parte sarà in scena stasera domani sera e sabato sera e praticamente questo spettacolo parte da un rifiuto perché lui ha fatto appunto un provino con Paolo Sorrentino per The Pop Young e non è stato preso ed è uno dei grandi no diciamo così che gli attori devono ricevere quei no che servono e lui da quel no parte per un racconto di come e perché si insegue un grande sogno cosa ci spinge a inseguirlo anche se riceviamo dei no e che cosa succede quando riceviamo dei no quindi chiaramente questo racconto è un racconto molto ironico come Giuseppe Scoditti fa nei suoi spettacoli e peraltro in questo spettacolo è affiancato sia nella scrittura che nella regia da Gabriele Gerez Albanese lo trovate al teatro Fontana che si trova in zona isola quindi metropolitana gialla Zara e quindi teatro Fontana Giuseppe Scoditti Paolo Sorrentino Vieni volevo dirti una cosa potete trovarlo lì fino a sabato poi ci spostiamo invece al piccolo teatro anzi al teatro Grassi con uno spettacolo teatro Grassi quindi siamo in centro a Milano fermata Cordusio fermata metropolitana rossa con una compagnia che ha conquistato il mio cuore che è la Casa d'Argilla è una compagnia le cui anime sono Lisa Ferlazzo Anatoli e Alessandro Ferroni con tutta una serie di attori e attrici che ormai lavorano quasi diciamo così sempre con loro quindi con una compagnia fissa e fanno dei lavori molto interessanti su temi difficilissimi sono stati sempre il piccolo teatro con l'anatomia di un suicidio e adesso tornano con il Ministero della Solitudine che peraltro il Ministero della Solitudine in realtà è esistito davvero perché in Inghilterra c'è stato un Ministero della Solitudine che ha avuto vita breve ma che in realtà è stato fondato proprio per cercare di creare un supporto per tutta una serie di esigenze legate alla solitudine che però non vengono, cioè è difficilissimo come si fa a definire che cos'è la solitudine come si fa a dare dei parametri per capire chi può rivolgersi al Ministero della Solitudine e chi no e infatti ha avuto vita breve il Ministero della Solitudine è rimasto solo è rimasto solo, è assolutamente rimasto solo e infatti in questa narrazione dove ci sono cinque tra attori e attrici c'è anche una funzionaria di questo Ministero che a un certo punto in qualche modo rimane sola perché non riesce più a capire chi può entrare Ma Tamara, ma questa però è un'opera di fantasia oppure racconta la storia del vero Ministero? No, è un'opera di fantasia No, chiaramente partono da questo fatto di cronica reale e poi invece narrano la storia di queste cinque anime che raccontano, questa è una cosa secondo me molto importante nel senso molto interessante e cinque tipologie di solitudine molto diverse nel senso che la solitudine non è una cosa soltanto è fatta veramente di dettagli è fatta di persone che in realtà nella vita normale in quella in cui si relazionano con gli altri possono non essere definiti soli ma che in realtà poi ritrovandosi con se stessi hanno un profondo senso di solitudine e questa solitudine secondo me in qualche modo ci riporta la nostra di solitudine perché in realtà tutti noi cerchiamo affannosamente di crearci una realtà densa di impegni, di relazioni, di situazioni però poi dobbiamo fare i conti con la solitudine chiaramente una solitudine è sempre molto personale una solitudine è sempre molto poco definibile ecco questa è una cosa che mi piace e la Casa d'Argilla lavora molto su questo cioè su tutto ciò che è poco definibile che rientra poco dentro delle definizioni chiare e quindi è molto difficile da indagare bisogna perché molto spesso la solitudine mi è raccontata in maniera consolatoria quindi come a dire non c'è problema c'è sempre una soluzione non bisogna soffermarsi su quel senso di disagio invece Casa d'Argilla entra dentro il disagio e ci permette di entrare con loro dentro quel disagio e entrare dentro il nostro di disagio che teniamo sempre un po' a parte dove ricordiamo bene questo? Teatro Grassi quindi centro di Milano Piazza Corduzio praticamente quindi metropolitana rossa facilmente raggiungibile e poi siccome la settimana scorsa avevate in studio Elena che giustamente mi ricordava che in realtà che ha dei figli che ha una missione ha una missione di civilizzazione verso quelle due capre dei figli no mi ricordava che i ragazzi e le ragazze sono sempre insomma il teatro lo vedono sempre come qualcosa di imposto però se si inizia presto ad andare a teatro probabilmente potrebbe diventare un'abitudine e quindi mi son detta perché non parlare di un teatro che ha una programmazione specifica per ragazzi e ragazze dai praticamente dai zero anni quindi dai proprio dai primi mesi fino ai 16-17 stiamo parlando del teatro del Buratto il teatro del Buratto ha una tradizione insomma che arriva da lontanissimo adesso hanno fatto una sede nuova diciamo così che è la sede del teatro Munari e quindi ci sono due sedi una in via Pastrengo e che è quella tradizione diciamo così quella ormai tradizionale e quella nuova del teatro Munari in questo caso proprio vi racconto uno spettacolo la Conta di Natale che si trova appunto al teatro Munari metropolitana Dergano sì, giusto ok sì, Dergano perché io ho sempre sugli accenti ho sempre delle difficoltà ma questa è la facile questa no, Dergano, Dergano anche questo facilmente raggiungibile con la metropolitana la Conta di Natale dai tre anni in su quindi ha un linguaggio legato soprattutto al teatro di figura quindi ha un linguaggio più adatto a bambini e bambine un po' più piccole perché cerca anche di coinvolgerli molto quindi è praticamente un calendario dell'avvento in cui i bambini e le bambine sono coinvolte attraverso filastrocche attraverso canzoni attraverso una partecipazione diretta perché appunto gli spettatori e le spettatrici più giovani se coinvolte sicuramente partecipano più alla storia e quindi si sentono più dirette e quindi il teatro del buratto comunque vi consiglio ha una programmazione legata soprattutto a un pubblico giovane diciamo così molto giovane ok Basieri tu no tu no Basieri non sei abbastanza giovane ma no neanche neanche all'età di dodici anni era giovane infatti io sono rimasto al primo consiglio ecco di Giuseppe Scoditti perché è stato citato Nanni Moretti manco a dirlo sono grande fan di Nanni Moretti ma che stai chiaramente e mi ha ricordato una scena incredibile dell'ultimo film molto teatrale Tamara non so se l'hai visto correggimi nel caso dove si parla di violenza e appunto Scoditti che fa il giovane regista che ha una concezione di violenza spettacolare eccetera e Nanni Moretti che fa il contraltare un po' più anziano un po' più anziano un po' più maturo diciamo dove invece vede la violenza come un qualcosa di superiore che deve essere più psicologica che è un mero sparo hanno anche proprio una visione diversa della narrazione cinematografica costruiscono il film in maniera molto diversa e questo per Nanni Moretti diciamo così è impensabile e quindi c'è questo forte contra mentre insomma il personaggio che porta Giuseppe Scoditti è un personaggio molto più irriverente non ha tutta questa diciamo così questo rispetto per la tradizione cinematografica per lui quello è il cinema quello che sta raccontando lui quindi c'è questa contrapposizione fortissima bene recuperalo Fabio avete voglia di andarlo a vedere allora va bene recupero le robe che questo mi banca c'è su una piattaforma alla fine pur essendo contro le piattaforme sostanzialmente si trova su Sky però io l'ho visto al cinema meno male che ci siete voi due eh beh Nanni Moretti beh ricordiamo il titolo il sol dell'avvenire ho visto la Cortellesi al cinema anche quello merita molto quando parlavi di violenza ho pensato ad esempio a una scena topica epica di quel film che appunto parla della violenza in quella maniera in cui invece magari Nanni Moretti la vorrebbe raccontare appunto eh Tami tre consigli uno migliore dell'altro diciamo che insomma siamo sempre siamo sempre ben consigliati della buona Tamara Malleo allora noi eh vi consiglio anche un'altra cosa sì vai che se state pensando ai regali di Natale regalare uno spettacolo teatrale significa anche condividere una serata insieme eh significa anche mh per chi non è appassionato magari scoprire il teatro eh però secondo me regalare un'esperienza secondo me è sempre un bellissimo regalo per dare un consiglio ecco 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 bene 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 e allora Tamara grazie mille del consiglio e dei consigli anzi in questo caso eh noi ci vediamo giovedì prossimo ma io ti sento un po' attratti Fabio quindi ok allora ti salutiamo faccio il mimo ho fatto un corso di LIS ma non mi è servito a niente quindi chiedo scusa alla mia maestra di LIS Lingua dei Segni che non cioè lei spiegava molto bene ma io non ero molto attento quindi chiedo scusa però bigiavi no no si l'ho preso da altro ma rimè quindi chiedo scusa Tamara grazie mille ci vediamo giovedì prossimo allora va bene va benissimo buona settimana ciao ciao Tamara ciao e allora grazie mille ancora Tamara Malleo ci vai a teatro quindi tu vai a vedere sono molto interessato al primo al primo il primo è molto interessante indipendentemente appunto dall'attore ti ha attirato tanto quello ti piace come proposta va bene allora andiamo con un po' di musica che poi dopo piccola pausa e poi siamo di nuovo qui con voi sempre qui su Crystal Radio Good Morning Milano come sempre dalle 7 alle 9 Good Morning Milano raccontiamo di tutto e di più e andiamo avanti quindi un po' con la buona musica di Crystal Radio Musica 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 Musica